L'autodromo di Sarno protagonista delle monoposto con la seconda edizione del Gran Premio Megawatt dedicata alla categoria Predators. Nel circuito usualmente dedicato ai kart hanno sfilato in prova in gara le monoposto frutto di un motore Honda per motocicli e dotate di una sorprendente velocità quanto una Ferrari 4 e 30 dei campionati GT2 grazie alla strabiliante leggerezza che fa pesare le automobili non più di 250 kg. La prova valevole per il campionato che vede una passerella anche nell'autodromo di Monza ha quindi fatto tappa sul circuito campano intitolato alla città di Napoli e che nell'aprile scorso ha visto sfilare in kart Michael Schumacher.